Nella ventitresima giornata di campionato di serie di Girone F, Pineto e San Benedettese si dividono la posta in palio con uno 0-0 molto abulico di emozioni. Dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa, nessuna ha il guizzo vincente. Polemiche nel finale per un fischio a detta dei rosso-blu anticipato del direttore di gara, Colarino Di Nola. Prossimo turno, sfida marchigiana per i biancazzurri contro il Montegiorgio. Calcio d'inizio per i padroni di casa, il match incomincia con i biancazzurri a cercare di dettare a legge Emilio Albacio per Allegretti che cerca il ponte anziché incornare verso la porta di Marone. Il Pineto attacca ma la Samb risponde col proprio capitano Angiulli, impegna Mercorelli che alza sopra la traversa, ancora i marchigiani insistono, tiro cross radente, velenoso di poco sul fondo del rosso-blu. Sempre la Samb, Maute. Calcio di rigore in movimento, Nonni allontana. Al venticinquesimo reclama il Pineto, pallone vagante in aria, tocco di mano marchigiano, ma la direzione di gara lascia correre. Nella ripresa la partita continua con lo stesso canovaccio tattico, Allegretti si accende e conclude, Marone blocca al 65esimo. Paura per il Pineto, Mercorelli anticipa un avversario fermandolo come può Colaninno di Nola, estrae il giallo non essendo lui in grado di definire una chiara occasione da gol. Il match equilibrato con poche occasioni degne di nota alla mezz'ora invenzione di Giambè per Foglia. Solo potenza per il numero 7 che manda tutte le ortiche nel finale, nel recupero. Milani conclude, forse Giambè con la punta e il miracolo di Marone sul capovolgimento di fronte, Colaninno fischia la fine con Marra simbolato verso l'area di Mercorelli. Suscitando le polemiche della panchina, ospite a farne le spese, mister Manoni espulso dal direttore di gara di Nola. Non succede più nulla, Pineto e San Benedettese si dividono la posta in palio.